La regione cerca di evitare che nell'RSA si ripeta quanto accaduto durante la prima ondata, quando la mancanza di dispositivi di protezione e di un protocollo unico, unita alla mancata conoscenza della diffusione del virus già in atto, ha causato la strage di ospiti nelle case di riposo. Da mesi queste strutture adottano procedure rigide, anticontagio e a pagare il prezzo più alto sono gli anziani che non possono ricevere le visite dei loro cari. E ora avranno a disposizione anche i test antigenici rapidi da effettuare agli ospiti e al personale periodicamente. La regione inoltre, in collaborazione con l'Agenzia regionale Aria, fornirà le strutture che hanno difficoltà ad acquistare in autonomia i dispositivi di protezione individuale, questi dispositivi e le RSA sono state messe in ginocchio due volte dal virus, prima la crisi sanitaria e il dramma di vite umane, poi quella economica per via dei posti vuoti. Il personale è costretto a combattere contro il virus in prima linea, si è trovato in cassa integrazione, in molti casi a rischio di perdere il lavoro. Per questo la regione, con una delibera e con un progetto legge, riconosce per il 2020 alle strutture di accoglienze residenziali per anziani e disabili le risorse legate al budget sanitario del 2019, ovvero all'anno precedente alla diffusione del Covid, che ha drammaticamente ridotto il numero degli ospiti dell'RSA. All'RSA e all'RSD viene riconosciuto un incremento della quota sanitaria di 8 euro al giorno per ogni posto letto occupato nel corso dell'emergenza e di 40 euro al giorno per ogni paziente Covid ospitato nel corso della prima fase. Gli interventi che verranno approvati, spiega l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, prevedono anche un aumento delle tariffe del 2,5% per tutte le strutture residenziali, semiresidenziali e per i centri di urni integrati del valore di 30 milioni di euro. Infine, altri 10 milioni verranno erogati a sostegno dei servizi di assistenza domiciliare integrata e delle cure palliative domiciliari, in aggiunta al monte risorse del 2019.